qualcosa di costruttivo per la mia attività di consulenza dimostrare che noi ci siamo che siamo proprio nel nostro territorio non è mai stato fatto in passato per una rete di consulenza finanziaria credo molto in quello che sto facendo in quello che la mia banca sta facendo l'affronto con entusiasmo con forza con energia la nostra consulenza è unica in primis perché siamo noi eroghiamo una consulenza certificata con un processo certificato abbiamo un programma personalizzato di educazione finanziaria per la nostra cliente ci proponiamo di accompagnarlo nella vita nel suo percorso familiare per tutto ciò che riguarda l'aspetto finanziario del nucleo il lavoro di squadra è fondamentale la regione calabria vuole riscattarsi e vuole rinnovarsi e dimostrare il proprio valore la squadra è alla base di ogni esperienza per ogni azienda di successo siamo advisori siamo advisori siamo advisori siamo advisori siamo advisori